è lui non è uno zaino qualsiasi ha il lato chiaro e il lato oscuro è ora di entrare in azione segui il richiamo della forza scuola star wars ci sono anche l'astuccio il diario e in ogni zaino la spada scuola star wars il lato chiaro e il lato oscuro grazie